Siamo positivi circa i risultati ottenuti in questo anno, ma sappiamo di dover ancora fare molto per raggiungere quei livelli di virtuosismo che sono propri di altre realtà territoriali della Regione. Così si è espresso in occasione dell'Assemblea annuale dei Soci il presidente provinciale dell'Avis di Ascoli Piceno, Massimo Lauri, illustrando i dati dell'anno 2010 e i progetti per quello in corso. La nuova Avis provinciale, nata a seguito della scissione delle due province di Ascoli e Fermo, è sulla buona strada per l'approvvigionamento, ma deve ripensare la sua organizzazione interna per accrescere il numero degli iscritti. Mediamente siamo cresciuti del 5% tra donazioni e donatori, ci stiamo attestando sui 6.500 donatori circa, per quasi 13.000 donazioni, complessivamente tra i vari tipi di donazione. Diciamo che stiamo crescendo bene, ma stiamo lavorando anche per crescere sul territorio, per essere più presenti. Quindi il nostro obiettivo non è solo quello di aumentare le donazioni e i donatori, ma è quello di aumentare la presenza sul territorio. Siamo piccoli, abbiamo poche comunali, abbiamo iniziato un percorso con Montalto delle Marche, andrà avanti con Montalto delle Marche, Nel 2010 il lavoro che abbiamo fatto è quello di preparazione proprio per questo tipo di attività. Siamo complessivamente comunque soddisfatti, però dobbiamo lavorare e ci stiamo preparando per lavorare ancora di più. Presidente, lei ha detto che il numero dei donatori è aumentato. In quali zone della provincia si riscontra una maggiore affezione, l'Avis, quindi una maggiore sensibilità? Non c'è una zona dove c'è una maggiore attenzione. Diciamo che l'Ascolano, l'entroterra va benissimo, va molto bene. Stiamo lavorando e lavoreremo di più sul territorio della costa, perché lì siamo leggermente più carenti. Però non possiamo dire che c'è una zona più sofferente. Avremo una zona dove ci impegneremo di più, dove lavoreremo di più, dove presteremo più la nostra attenzione. Come è andata sul fronte dei giovani? Sul giovani abbiamo avuto delle difficoltà. Con il gruppo giovani, ma parlo come organizzazione, non come donatori, che va sempre bene e si avvicinano sempre di più alla donazione. Però noi, quando parliamo dei giovani, io intendo anche dei giovani attivi che si impegnano. Abbiamo avuto qualche difficoltà, perché nel 2010 con i giovani naturalmente, chi ha problemi di lavoro, quindi nel coordinamento abbiamo avuto qualche difficoltà. speriamo di aver trovato quell'equilibrio giusto per poter lavorare meglio. Però debbo dire che è un campo dove le soddisfazioni sono sempre grandi. Quando lavoriamo con i giovani, i giovani rispondono, c'è una soddisfazione maggiore. Per il 2011, quali sono i progetti dell'Avis provinciale di Ascoli Piceno? I progetti sono quelli di continuare il lavoro che ha appena iniziato, quello di essere più presenti sul territorio, quindi di avviare nuove comunali. Un impegno grandissimo è questo. L'altro impegno è quello di, come Avis provinciale, di aumentare i servizi per le comunali. Quindi dobbiamo rafforzare questo nostro impegno di sostegno alle attività delle comunali, che poi quelle che crescono, che trovano i donatori, che seguono donazioni, sono le comunali. Il nostro impegno è quello di essere sempre di più di sostegno all'attività delle comunali. E lei personalmente oggi come si sente? Oggi sono particolarmente soddisfatto ma particolarmente teso, perché è la prima mia assemblea e quindi è la prima volta, insomma, c'è sempre un po' di difficoltà. Però sono complessivamente molto, molto soddisfatto. Far crescere il numero delle territoriali, questo l'obiettivo dell'Avis provinciale di Ascoli Piceno per i prossimi mesi, uno scopo che troverà l'assoluto appoggio dell'Avis regionale. Sì, qui dobbiamo continuare l'opera di radicamento che nelle altre province marchigiane abbiamo portato avanti negli anni scorsi. Stanno facendo a livello provinciale, l'Ascoli Piceno, un grande sforzo. Sono nate alcune Avis comunali nei mesi scorsi, nuove, altre ne apriremo nei prossimi mesi. C'è un'attività importante volta a radicare sempre di più e sempre meglio sul territorio provinciale ascolano l'Avis e la nostra associazione. Anche perché abbiamo visto che se c'è un Avis comunale i donatori aumentano in ogni luogo e quindi l'importante per noi è aumentare il numero di donatori e delle donazioni, ma l'aumento passa attraverso un'organizzazione più ampia e più estesa in questa provincia, così come nella provincia di Fermo. Stiamo lavorando per questo. L'Avis regionale sta dando tutto l'appoggio e contributo al Consiglio provinciale di Ascoli, così come a quello di Fermo, per continuare questa attività che è importante. Presidente, come possiamo giustificare il fatto che in controtendenza rispetto all'andamento delle altre province marchigiane in questa l'entroterra risulta più generoso rispetto alla costa? È vero, questo è vero, ma non credo che ci siano motivi particolari. è che l'Avis qui è ben organizzata, soprattutto è un Avis, questa di Ascoli Piceno, che parla molto al mondo giovanile. C'è un gruppo giovani molto organizzato da sempre e questi giovani poi non solo ci aiutano a far crescere l'associazione quotidianamente, ma si impegnano a portare altri giovani, a far crescere anche una classe dirigente di cui noi abbiamo bisogno e credo che come Avis Market al gruppo giovani di Ascoli Piceno abbiamo appreso sempre molto perché sono stati veramente negli anni bravi, propositivi, impegnati e dovremmo soprattutto i giovani delle altre province imparare molto dei buoni giovani dall'organizzazione che c'è ad Ascoli Piceno. Quindi i donatori vengono, soprattutto giovani, perché qui c'è una realtà giovanile in vermento, attiva e propositiva. E noi di Avis Informa non ci stancheremo mai insieme a voi di ricordare a chi ci sta ascoltando a casa che all'Avis non si è mai arrivati, ma bisogna sempre ripartire dai risultati ottenuti per nuovi traguardi perché di donazioni ce n'è sempre più bisogno. Infatti è proprio così. Il nostro impegno è questo. Quest'anno noi abbiamo raggiunto nelle Marche complessivamente superato la soglia dei 100.000 donazioni, ma per noi è un punto di partenza nuovo, non è un punto di arrivo perché dobbiamo raggiungere e centrare sempre nuovi traguardi anche perché purtroppo di questo farmaco salvavita c'è sempre bisogno e ce n'è sempre più necessità. Sono in tanti a concorrere ai buoni risultati raggiunti, spiega il direttore sanitario dell'Avis Marche Enrico Morli ringraziando i dirigenti dell'associazione. Stanno lavorando e stanno lavorando bene aprendo nuove Avis comunali e quindi abbiamo sempre detto più l'Avis è vicino alla popolazione, più la popolazione conosce l'Avis e più abbiamo donatori e donazioni. L'attività svolta è ottima sotto tutti i punti di vista, ma occorre non abbassare la guardia. È necessario che soprattutto i giovani si coinvolgano per costruire il futuro dell'Avis in ogni realtà territoriale. Noi abbiamo raggiunto dei livelli di donatori e donazioni che forse diventano un traguardo, non diventano una ripartenza per responsabilità oggettive, quindi mancanza di personale in pratica. Il famoso discorso dei politici in cui dice il servizio sospensionale regionale è un fiore all'occhiello, poi in pratica non si dimostra tale perché poi non ci vengono date le possibilità di andare avanti. I giovani sono effettivamente una risorsa, per noi ci abbiamo sempre puntato. Quello che chiediamo ai giovani però è di essere fedeli ad essere soci, nel senso all'inizio molto entusiasmo, poi o motivi di studio, o motivi professionali, o pane, amore, fantasia, i giovani tendono a calare. È una cosa che noi non ci possiamo permettere, anche perché noi ce ne andiamo e sicuramente il buco deve essere coperto dai giovani che si mantengono, sia donatori che dirigenti. Perché molto spesso, almeno da quelli che conosco io, nella mia provincia vogliamo, o anche nella mia avis comunale, il giovane dice e quando io ho donato ho fatto? No, siamo un'associazione in quanto tale abbiamo bisogno di una costante presenza, di una costante invito a lavorare e quindi anche ai giovani chiediamo prendetevi anche le vostre responsabilità. E ai giovani vogliamo anche ricordare che donare fa bene loro alla salute, perché? Allora, prima di tutto, il discorso che io faccio ai genitori, mandate i figli in avis. Perché? Perché ci avrete qualcuno che sa se i vostri figli si mantengono bene in salute, sotto tutti i punti di vista. Se un giovane dona regolarmente significa che è sottoposto ai criteri di donità pari donazionali e quindi non ha problemi. Diciamo ai cittadini, accostatevi alla donazione del sangue, accostatevi all'avis perché siete sicuri che ci sono medici che vi controllano, che vi seguono, un'associazione che vi segue. Ai giovani diciamo, incominciate adesso a entrare nella vita, vi diamo l'occasione per viverla bene questa vita, non ve la perdete, è un'occasione irripetibile. Parlare dell'avis significa parlare di solidarietà, ma di una bella solidarietà. Questa avis provinciale che sta crescendo, i numeri sono incoraggianti, ma bisogna ancora fare molto perché anche l'avis provinciale ha risentito della scissione tra le due province di Ascoli e Fermo e questo implica che anche forse le istituzioni debbano fare la loro parte per sostenere il gran lavoro che c'è dietro la costruzione di nuove territoriali. Sì, effettivamente avevamo costruito un modello organizzativo di concerto con l'avis, molto interessante questo di Ascoli, una rete diffusa sul territorio, su tutti i 73 comuni della ex provincia di Ascoli Piceno, merito soprattutto dei dirigenti dell'avis provinciale, della cellula, posso dire, Ascolana, veramente molto attiva, che è riuscita a fare anche molti proseliti nel campo dei giovani. Ad Ascoli poi abbiamo fatto un progetto molto interessante anche con le ragazze del 235esimo reggimento. Poi questo smemmamento ovviamente ha portato anche qualche problema dal punto di vista organizzativo. Ripartiamo comunque, sono ripartiti veramente anche molto bene da questo punto di vista, e compie le istituzioni, è quello di sostenere sempre più le loro progettualità, perché qui è un problema culturale, un problema della donazione, è un problema di cultura, non è soltanto un problema di slancio, di solidarietà dei singoli. È il sistema che deve naturalmente capire che il sistema sanitario nazionale ha bisogno in pratica di questa associazione ed ha bisogno che questa associazione si introduca nella società a tutti i livelli per poter far sì che il ricambio generazionale ci sia sempre. La provincia di Ascoli da questo punto di vista è presente, io lo sono stato come sindaco per dieci anni, cercando anche di dare stabilità alla loro sede, trovando una nuova sede, mettendola insieme ad altre strutture di volontariato perché potessero fare sinergia insieme. Credo che lo slancio dei cittadini piceni da questo punto di vista è ammirevole, i risultati sono stati ottimi, i numeri sono incoraggianti, ma tutto ciò non basta, non dobbiamo passare alla guardia, dobbiamo lavorare come sempre, ripeto, con i più giovani perché è lì la linfa vitale affinché l'Avis possa continuare a fare quello che sta facendo e è ancora meglio. Se nella vita sei un tipo positivo o negativo, a noi non importa. Paola deve la sua vita a Maisha, donatrice di sangue Avis da dieci anni. Paola oggi ha un futuro nuovo, anche grazie ad Avis. Grazie, prego. Chi dice che i legami di sangue non contano, si sbaglia.